Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. Quello di cui vi parlo oggi è indubbiamente uno strano delitto. Ma Aracalisti, la protagonista di questo caso, è infatti la vittima di un delitto a porta chiusa o a camera chiusa. Partiamo subito con una domanda. Cos'è un delitto della camera chiusa? A caratterizzarlo sono due elementi specifici. Un luogo circoscritto dal quale nessuno apparentemente può entrare e uscire e la presenza di un numero assai ristretto di persone e testimoni, compresa la vittima. In questo luogo, con simili condizioni che potremmo definire peculiari, si verifica un omicidio che, anche in considerazione dei pochi indizi raccolti, diventa subito un rompicapo difficile o impossibile da risolvere. Questo è uno di quei casi che mi incuriosisce, più di tutti, perché, diciamocelo io, voi, tutti vorremmo avere una spiegazione ai misteri irrisolti. Questa volta, però, una spiegazione non c'è. Non ci sono testimoni, nessuno che abbia visto o sentito qualcosa. E, tra l'altro, questo omicidio si consuma in un luogo dove non è assolutamente facile entrare né uscire, almeno per uno sconosciuto. Questo non solo è un delitto assurdo, ma è anche un delitto senza spiegazione. Mara, all'epoca dei fatti, ha 36 anni e viene uccisa nel luogo in cui si sente più sicura, ossia a casa sua, più precisamente nella sua camera da letto. Inoltre, il tutto avviene di notte, quando Mara si rilassa perché si distende e si addormenta, diventando inevitabilmente più vulnerabile. È anche vero, però, che la camera da letto può essere il luogo più inquietante di tutta la casa, almeno per i più piccoli. Le paure dei bambini si animalo nel silenzio quando rimangono da sole di notte e si nascondono sotto le coperte al minimo rumore, pensando che dalla porta che stanno fissando possa entrare a un terribile mostro che li mangerà in un sol boccone. La protagonista della nostra storia, però, come già sapete, non è una bambina e non ha paura del buio o dei mostri. Siamo a Todi, in Umbria. È incredibile che in una cittadina come questa, così tranquilla, possa consumarsi una tale tragedia. E invece anche qui, in questi paesini così quieti e accoglienti, si verificano gli omicidi. Improvvisamente si alza la nebbia, quella nebbia fitta che non ti permette di vedere con chiarezza le strade, i palazzi. La cittadina, tanto ospitale, si barrica con un velo. È la notte tra il 14 e il 15 luglio del 1993 e la città sta dormendo. In via Angelo Cortesi, al civico 131, c'è un palazzotto di quattro piani. In uno degli appartamenti del quarto piano c'è un corridoio buio. Sono le 3.45 del mattino. D'un tratto si schiude una porta e, dopo pochi attimi, si sentono dei passi incerti. È una donna quella che compie quei passi incerti. Addosso solo alla biancheria intima, entra nella camera da letto del padre Mario, che si trova dal sonno alla veglia. Una veglia che ben presto diventa un vero e proprio incubo. Quella donna apre la porta della camera da letto di suo padre e accende la luce. Ha una profonda ferita al petto. Riesce solo a murmurare, babbo, guarda cosa mi hanno fatto, per poi crollare a terra senza vita. Le domande sono tante. Cos'è successo? Ti ha colpito Mara? Come ha fatto l'assassino a entrare e a uscire? Chi l'ha percepito in quel condominio silenzioso? Ad esempio, il portone di quel condominio è vecchio e pesante, ma ha una molla molto veloce e, se non lo sai, e magari non accompagni piano la porta, questa sbatte violentemente. Per caso, il rumore del portone l'ha sentito qualcuno dei condomini? E, se nessuno l'ha sentito, com'è possibile? Insomma, siamo in uno di quei condomini in cui tutti sanno tutto. Prima di continuare con questa storia, però, come nostra consuetudine, dobbiamo fare qualche passo indietro. Chi è Mara? Mara Calisti nasce il 15 giugno del 1957 e vive in Umbria, a Todi. Mara viene descritta dagli amici e dai parenti come una donna bassina, alta circa un metro e cinquanta e leggermente in sovrappeso. Ebbene, a Mara, di questo leggero sovrappeso non frega nulla. Non fa nessuna dieta, si veste casual, con dei jeans e dei maglioncini ed evita le scarpe col tacco come la peste. Per Mara, le scarpe adatte sono le sue amate scarpe da ginnastica. Mara ha uno stile semplice, ma il suo carattere è esattamente l'opposto. È molto forte e sicura di sé, ha le idee chiare, è gelosa della sua indipendenza. Rita, che di Mara è la sorella e la conosce bene, dice però che sotto quel carattere apparentemente forte si può scorgere un'anima timida e insicura. È piena di passioni, Mara, è iscritta al CAI, cioè il club alpino di Perugia, e partecipa molto spesso alle escursioni di gruppo in montagna. Sì, ama la montagna, e lasciate che vi dica, un po' la capisco, anche io amo la montagna, mi dà un senso di pace che pochi luoghi riescono a donarmi. Ma non è finita qui, Mara ama moltissimo anche cantare, lo fa nel coro di Perugia, e quando il suo maestro viene spostato in una cittadina vicina, Mara lo segue continuando a coltivare la sua passione. Inoltre la donna apprezza particolarmente la musica di Beethoven. Fin da giovane è molto attiva in politica, ha un orientamento di sinistra ed è iscritta al Partito Comunista Italiano. Ma anche in questo ambito Mara è piena di contraddizioni. I suoi compagni di partito le ricordano le polemiche di Mara, spesso in lotta con le decisioni prese. Mara ne discute, non ha paura di prendere una posizione. È una giovane donna aperta e simpatica, che ama la sua indipendenza, piena di interessi. Tanto che non conclude gli studi di giurisprudenza, non perché non riesca a studiare o non voglia farlo, ma perché non vuole essere un peso per nessuno. Preferisce lasciare l'università e iniziare a lavorare per potersi mantenere da sola, anche contro il volere dei suoi genitori. Viene assunta come segretaria part-time in uno studio legale e per arrotondare lo stipendio fa le pulizie nel liceo di Todi, che lei stessa aveva frequentato. Sono entrambi lavori modesti, che lei però non disprezza, e lo si capisce da una frase che ripete sempre a sua sorella, ossia le persone non si giudicano da quello che fanno, ma da quello che sono. Questa è Mara, una donna che vada più all'aspetto interiore delle persone che ha quello esteriore. È anche molto generosa e disponibile, tanto che accudisce un suo amico molto malato fino alla sua morte. Ma, quindi, chi potrebbe voler mai uccidere una donna così? Mara, come già detto, vive nel palazzo di Via Cortesi con il padre Mario. Il resto della famiglia è in un paesino di campagna dove i Calisti hanno comperato una nuova casa, nella quale hanno già portato vari mobili. Mara e il papà sono rimasti ancora nel vecchio appartamento per degli impegni da svolgere l'indomani mattina. Mario Calisti, infatti, ha un appuntamento con il suo commercialista, poi intenne tornare in campagna lasciando Mara da sola in città. Quella mattina di mercoledì 14 luglio per Mara è una giornata come le altre. Si sveglia di soprassalto, non ha sentito la sveglia ed è già in ritardo, deve andare a lavoro. Si alza velocemente, si veste, va in bagno e poi cerca di sistemare quei suoi capelli così ribelli, ma è inutile, sono indomabili. Mara, dunque, passa velocemente il pettine tra le ciocche e corre a lavoro. Lavora, sbriga le sue pratiche e va a fare delle commissioni in pretura. Quel 14 luglio 1993, Mario Calisti resta in casa tutto il giorno. Verso sera si appresta a preparare la cena in attesa della figlia Mara, che arriva a casa esclamando «Ciao papà!» intorno alle 20 e 30. I due cenano e verso le 21 e 30 il padre esce per andare a far visita a una cognata, come usa fare spesso, mentre Mara invita una vicina di casa per bere il caffè e scambiare qualche chiacchiera. Sono le 23 circa, Mara e la vicina conversano piacevolmente quando arriva una telefonata. Mara va a rispondere, è una chiamata molto breve e la vicina non capisce né chiede chi fosse. Pochi minuti dopo fa ritorno Mario Calisti. Scambia due battute con la figlia e la vicina che guardano un film in tv, poi dà la buonanotte a entrambe e si ritira nella camera da letto. Poco dopo va via anche la vicina di casa. Così Mara entra in camera sua e si mette a dormire. Padre e figlia dunque si separano. La camera di Mara sta dall'altra parte della casa, vicino al salotto. Per raggiungere la camera di suo padre Mara dovrebbe percorrere un corridoio. È stretto e buio quel corridoio. Da adesso ogni rumore, gli orari e tutto ciò che è anomalo diventa estremamente importante. È l'1.30, il signor Calisti si alza per bere un bicchiere d'acqua. Non sente alcun rumore quindi Mara sta dormendo. Alle 2.30 rientra l'ultimo degli abitanti del condominio, chiude il portone e sale in casa sua. Intanto all'interno e fuori dallo stabile di via Cortesi non tutti stanno dormendo. Tra le 2.30 e le 3 un paio di condomini sono svegli, la calura estiva è forte e il sonno leggero. Entrambe le persone però non sentono nulla di particolare nel silenzio della notte. Sono le 3.40, ci avviciniamo all'ora del delitto. Fuori dal palazzo c'è un giovanotto che fuma una sigaretta. Abita lì vicino e soffrendo di insonnia decide di fare una passeggiata. Pochi minuti dopo alle 3.45 il signore del piano di sotto sente un rumore e si sveglia di soprassalto. Più precisamente ciò che sente è un tonfo sul pavimento del piano di sopra, dalla casa di Mara. Poco dopo la voce di Mario, il padre di Mara, si diffonde nel palazzo, chiede aiuto, implora aiuto, lo urla con tutte le sue forze. Il signore del piano di sotto corre verso il piano superiore insieme ad altri vicini di casa. Invece il ragazzo che fumava una sigaretta accorre verso casa di Mara, poi però cambia idea, raggiunge una cabina telefonica e chiama il 112. Intanto la scena che si presenta, i condomini accorsi nell'appartamento, è una di quelle che non si dimentica mai. Mara è a terra sul pavimento, suo padre le tiene premuto uno straccio sul petto per tamponare la ferita. Poi arrivano i soccorsi, che portano subito Mara all'ospedale, purtroppo inutilmente. Quando le forze dell'ordine intervenute chiedono a Mario Calisti cosa sia successo, l'uomo racconta dell'ingresso di sua figlia in camera sua, sanguinante e in fin di vita, e poi di quell'ultima frase pronunciata. «Babbo, guarda cosa mi hanno fatto!». Queste ultime parole immettono una luce sinistra in questa storia. Infatti, Mara non dice «guarda cosa mi ha fatto», bensì «guarda cosa mi hanno fatto», al plurale. Forse Mara intendeva che erano entrate più persone in camera sua? Il signor Calisti non ha né visto né sentito altro. Anche gli altri condomini non sanno riferire molto, eccetto l'inquilino del piano di sotto, che spiega di quel tonfo seguito dalle urla di Mario Calisti. Un'altra inquilina, invece, afferma di essere stata svegliata dal suono del campanello di casa, appena un istante prima che il signor Calisti destasse tutto il palazzo con il suo grido disperato. Nessuno degli altri inquilini, però, ha suonato al campanello della signora. Che sia stato l'assassino di Mara che, per sbaglio, durante la fuga ha premuto il campanello, anziché l'interruttore della luce delle scale? Dalla ferita che Mara presenta è chiaro che sia stata colpita con un'arma dalla punta arrotondata che l'è penetrata nel petto per 8 centimetri e l'ha uccisa troncandole di netto la orta. Franco Fabbroni è il primo medico legale che ispeziona il corpo di Mara e dichiara che la causa della morte è uno shock emorragico determinato da una ferita profonda. Mara perde la vita nel giro di 50 secondi. L'autopsia mette in evidenza che il colpo subito da Mara è vibrato dal basso verso l'alto. Non si tratta chiaramente di un suicidio, anche se inizialmente anche questa ipotesi viene vagliata. Poi però viene anche scartata perché l'arma del delitto, qualunque essa sia, non si trova. Ma è un omicidio strano questo, non ci sono segni di lotta né ferite da difesa. Mara riceve un colpo solo a tradimento, inferto in un punto vitale. E anche l'arma sembra improvvisata. Questo non appare come un omicidio premeditato, bensì come un delitto d'impeto, quindi maturato in un momento d'ira. Come detto, Mara è sopravvissuta dai 30 e 50 secondi dopo essere stata colpita. Secondi utili solo per percorrere quel corridoio buio ed entrare nella camera di suo padre. Mara viene colpita in camera da letto, mentre è in piedi al centro della stanza, vestita solo con l'intimo. È senza occhiali perché vengono trovati accanto al letto insieme a un libro e a una bajur. Però è chiaro che il colpo non l'ha ricevuto mentre era letto perché questo non è minimamente sporco di sangue. Mara, dopo essere stata colpita, si è trascinata lungo quel corridoio buio. Lo dimostrano delle goccioline di sangue che vanno dalla camera della donna fino a quella di suo padre. Quando entra in camera di Mario, prima di crollare a terra, Mara accende la luce, come dimostra l'interruttore sporco del suo sangue. A questo punto si presume che potrebbe essere stato anche un ladro ad ammazzarla, dal momento che la famiglia di Mara, appena due giorni prima, aveva traslocato. Quindi l'ipotetico ladro poteva pensare che l'appartamento fosse vuoto. Sorge però un'altra domanda. Da dove entra questo ladro? L'appartamento di Mara si trova al terzo piano rialzato. La finestra della camera di Mara è chiusa e sul terrazzo non c'è alcuna traccia. La porta d'ingresso non presenta segni di scasso. Inoltre, dall'appartamento di Mara non manca niente. C'è ancora la sua borsetta e ci sono anche dei suoi gioielli in bella vista. Inoltre, se il presunto ladro fosse poi uscito dal portone, avrebbe dovuto sapere che la porta andava accompagnata, altrimenti questa avrebbe sbattuto svegliando tutto il condominio. Ma ciò non è accaduto ancora. Dentro un cassetto di un mobile della cucina che contiene buste di plastica per il pane, vengono rinvenute delle gocce di sangue che appartengono a Mara. L'ha forse aperto l'assassino per mettere dentro a una di quelle buste l'arma del delitto? Dentro l'appartamento c'è un altro mistero. La porta che divide la zona giorno dalla zona notte è chiusa. Eppure quella porta non veniva mai chiusa. Ma soprattutto c'è quel ragazzo che soffriva di insonnia, sceso a fumare una sigaretta. Lui non aveva visto nessuno uscire dal portone. Poi ci sono i silenzi. È possibile che nessuno avesse sentito dei passi nel condominio? Non si sente il citofono suonare in casa di Mara? Non si sente che la porta d'ingresso della casa di Mara viene aperta? E poi chiusa? In un delitto della camera chiusa, la vittima è sola in un luogo in cui non si può né uscire né entrare. Ma se in quel luogo c'è qualcun altro, allora questo altro viene immediatamente sospettato. Ed è ciò che accade al padre di Mara. I carabinieri prima di Todi e poi di Perugia finiscono per indagare anche su di lui. Mario, che era presente in casa, visto che lì ci abita, può facilmente conoscere il posto in cui si trovano quei sacchetti per il pane, ad esempio. Per di più, Mara viene colpita in camera sua e questo fa supporre che lei conoscesse il suo aggressore. Magari si fidava di lui. Infine, c'è la ferita di Mara. Quell'unico colpo. Un delitto di impeto che potrebbe significare la fine in tragedia di una discussione familiare. Può succedere. Così, Mario Calisti, il padre di Mara, viene indagato. Fortunatamente le indagini restano riservate per un po'. Vengono condivise con il pubblico solo quando la magistratura archivia le stesse indagini. A scagionare Mario è la mancanza di un movente concreto. E soprattutto... Se Mara viene colpita in camera sua e se a colpirla è il padre, perché si trascina proprio nella stanza del padre? Com'è possibile che Mario sia nel suo letto a dormire? Mario, quindi, non c'entra nulla. Ma allora, chi è colpevole? Si inizia a scavare più a fondo nella vita di Mara e per farlo si va alla ricerca di altre persone che possano fornire più informazioni sulla sua vita e sul suo modo di essere. Una cara amica di Mara di nome Bruna Peppetti la descrive come una ragazza semplice, molto riservata. Parlava poco della sua famiglia, qualche volta dei suoi amati nipoti. Ma Bruna non è solo un'amica di Mara. Quest'ultima, infatti, è anche una sua cliente perché Bruna fa la cartomante, legge i tarocchi. Bruna racconta che quando faceva i tarocchi a Mara riusciva a vedere solo il suo passato e il suo presente, ma non il suo futuro. In effetti, Bruna glielo dice che non riesce proprio a vedere il suo futuro, ma Mara non giudica la cosa come problematica. Rimane semplicemente delusa e pensa che Bruna le dica questo perché nel suo futuro accadrà qualcosa di brutto. In realtà, la signora Bruna sottolinea che non riusciva davvero a vedere nulla, come se Mara nel futuro non esistesse neanche. L'ultima volta che Bruna incontra Mara è il giorno prima della sua morte. Vanno in centro a bere un caffè. Bruna guarda Mara ed è piacevolmente colpita dal suo aspetto. Questa volta è vestita molto bene, indossa dei gioielli, è truccata e ben pettinata. Mara dice che è felice perché quel giorno deve uscire con quello che lei definisce lui, il mio amore. Mara infatti ha una relazione con il medico di base del posto, ma è tormentata perché l'uomo che frequenta è sposato, è più grande di lei e ha due figlie. Però assieme hanno deciso di vivere quell'amore in segreto perché nessuna delle due famiglie avrebbe capito, neanche quella di Mara. È chiaro però che questa era una relazione a cui Mara teneva molto. Tale relazione rimasta nascosta con la morte di Mara viene scoperta e il medico viene subito indagato. Ma nega categoricamente di aver avuto una relazione con Mara. In ogni caso per la notte del suo omicidio ha un alibi solido, quindi viene scagionato. Come già vi ho detto, Mara è una donna indipendente. Infatti proprio in quel periodo decide di andare a vivere a Perugia. con una sua amica. Però in quell'appartamento non si trasferirà mai perché il padre preferisce averla con lui, a Todi. In quello stesso periodo peraltro confida un'amica di aver conosciuto un uomo più giovane dai capelli ricci e scuri con qualche precedente penale. Nello stesso periodo un'altra amica dice una frase che col senno di poi risulta davvero inquietante, ossia a me prima o poi mi ammazzano. In quel momento Mara quelle parole le pronuncia scherzando, ma questa frase non può che farci riflettere. Poco prima della sua morte Mara si iscrive all'università della terza età, dove frequenta dei corsi d'arte, ma lo tiene nascosto ai suoi genitori. Dopo il delitto arriva nella segreteria telefonica del telefono dello studio in cui lavorava uno strano messaggio che dice Il mistero della signorina Calisti è legato alla sua adesione alla terza età. Ma cosa vuol dire questa frase? Forse a uccidere Mara è stato qualcuno che la conosceva da poco, che aveva conosciuto proprio mentre frequentava l'università, che magari aveva accolto in casa mentre non c'era suo padre. Forse questo qualcuno che la conosceva la notte del delitto era entrato nel palazzo ed era salito fino ad arrivare a casa sua. Sì, ma come ha fatto a entrare? Non suona il citofono e non bussa? Poi, torniamo a quella telefonata che Mara aveva ricevuto la sera stessa del delitto, alle 23 e 30. Magari Mara aveva preso un appuntamento con qualcuno che aveva urgenza di vederla? È possibile. Forse ha atteso che suo padre andasse a letto. Gli ha aperto la porta, lo ha fatto salire ed entrare in casa. E poi che succede? Sappiamo solo una cosa. Mara muore. Anche questa supposizione però non quadra. Infatti Mara era inintimo e non aveva gli occhiali, come se si fosse appena svegliata e alzata dal letto. Per di più, non ha avuto rapporti intimi, dunque diventa difficile pensare che abbia fatto salire qualcuno in casa a quell'ora con il padre che dorme in fondo al corridoio. Mara non è decisamente il tipo di donna che avrebbe fatto una cosa del genere. Poi, quanto conosceva bene la casa questo assassino? Come ha fatto ad andarsene? Quanto tempo ha avuto per cercare quel sacchetto per il pane in un cassetto della cucina e uscire? Ma, soprattutto, se fosse uscito dal palazzo, perché quel ragazzo che soffre di insonnia e stava fumando una sigaretta proprio davanti al portone della casa di Mara non ha notato nessuno? È davvero un delitto misterioso questo. C'è però qualcosa che questo omicidio ce lo può spiegare. Le tante tracce di sangue trovate nell'appartamento. Da queste si intuisce che l'aggressore è in una posizione frontolaterale rispetto a Mara. Mara, dopo essere stata colpita, avrebbe percorso un tragitto relativamente lungo per la sua condizione, ossia il corridoio di circa 10 metri, per arrivare nella stanza del padre. Ma alcune tracce di sangue nel corridoio non sono assolutamente distribuite in modo regolare. In alcuni punti c'è una massiccia presenza di gocce di sangue dalle forme strane. In un punto c'è addirittura una macchia che assume una forma ad onda. Domanda. Perché mentre Mara percorre quel corridoio sanguinando, non pesta poi quel sangue ritrovato a terra? Non c'è alcuna impronta. Ma la pianta del piede di Mara, quando viene esaminata, è imbrattata di sangue. Come può dunque non aver lasciato impronte? L'unica spiegazione è che Mara, subito dopo essere stata colpita, viene sollevata dal suo aggressore, con la testa riclinata sulla sua sinistra. Quindi, in che modo ha proceduto l'aggressore? Ebbene, poteva camminare solo e soltanto di spalle, in modo da non pestare il sangue che Mara stava perdendo. Le tracce di sangue massicce sono in prossimità di ostacoli, come ad esempio una porta. Questo vuol dire che l'assassino deve effettuare una torsione, sempre trasportando il corpo di Mara in braccio. Quando effettua queste torsioni, la fuoriuscita di sangue non può essere bloccata, come invece probabilmente avveniva in tutto il resto del tempo. È ragionevole pensare che l'assassino, tenendola in braccio e stringendola al suo torace, abbia in qualche modo tamponato la ferita, permettendo una minore fuoriuscita di sangue. Quindi l'aggressore di Mara si è impregnato di sangue. Torniamo ancora una volta indietro nel tempo. Sono le 3.44 e manca un minuto al tonfo sul pavimento che sveglia il vicino. Mara è in camera sua, ma forse non è sola. Magari si alza perché sente un ladro che prova ad aprire la porta. O ancora, apre la porta a una persona a cui aveva dato un appuntamento. Dal colpo di Mara la sua morte trascorrono 50 secondi. Meno di un minuto e davvero poco tempo. Forse, posto che Mara non sia da sola in camera, intrattiene una discussione non particolarmente agitata, che con Mara forse vuole una risposta che però la donna non dà. È a questo punto che la rabbia cresce, una rabbia cieca che gli fa perdere totalmente il controllo. Sferra quindi un colpo con la prima cosa che si ritrova intorno, ma non con l'intenzione di ucciderla. Infatti, se il misterioso omicida avesse voluto ammazzarla, probabilmente avrebbe infierito sul corpo di Mara più e più volte. Chi l'ha colpita l'ha fatto in un gesto d'impeto e ora è sconvolto, terrorizzato, non sa cosa fare, ma ha soltanto 50 secondi. Quindi solleva Mara e va verso il bagno che si trova accanto alla camera da letto del padre della donna. Forse si rende conto che non sono solo in casa, c'è qualcun altro. Di conseguenza, preso dal panico, l'assassino lascia il corpo di Mara davanti alla porta della camera da letto del padre. Ed è così che Mara entra nella stanza di Mario. Dice l'ultima frase della sua vita. Babbo, guarda cosa mi hanno fatto. E poi, crolla a terra senza vita. Il fatto che abbia usato il plurale mi lascia comunque dei dubbi non indifferenti. L'assassino a questo punto scende le scale. Anche questa volta non lo nota nessuno. Commette l'errore di suonare un campanello invece che pigiare il tasto dell'illuminazione delle scale. Esce dal palazzo avendo cura di non sbattere il pesante portone e si dilegua fuori dalla vista del ragazzo insonne che sta fumando sulla strada. Tutto avviene in un minuto. Forse due. Però, purtroppo, quelle che vi ho riportato in questo video sono tutte supposizioni. Chiaramente ipotesi di esperti e non mie, ma nessuno sa cosa sia successo davvero a Mara in quella calda notte di luglio del 1993. Ci sono altri dettagli che sono riportati in alcune fonti, non tutte, e io voglio dirvi tutto ciò che ho trovato su questo caso. Al momento del delitto, Mara indossa solo slip, reggiseno, e una preziosa collana di perle, un abbinamento singolare, coerente con un possibile incontro galante. A supporto della teoria che Mara intrattenesse relazioni clandestine o rischiose, ci sarebbe anche la confessione fatta a un'amica poco tempo prima di morire, che vi ho già riportato. Va a finire che mi ammazzano, avrebbe detto, senza però scendere nel dettaglio. In effetti, secondo il racconto di alcuni amici, Mara appariva meno tranquilla del solito, dava l'impressione di temere qualcuno. A testimonianza della complessa vita privata di Mara, c'è anche una voce di corridoio mai confermata. La ragazza avrebbe addirittura abortito volontariamente pochi giorni prima del delitto. Resta il fatto che, ancora oggi, l'assassino di Mara resta senza volto e senza nome. Quindi, secondo voi, chi potrebbe essere stato a colpire la donna? Come al solito, ci becchiamo nei commenti. Io spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. E nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!